5 Stelle Sardegna presenta Die Prudie in collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia Alcocar, nuovo e usato garantito Alcocar, regione Giacamanna, fronte motorizzazione Terza ed ultima puntata quella di quest'oggi dedicata a questo 14esimo trofeo dei Metro d'Hotel che si è tenuto pochissimi giorni fa a Villa Forru in questa puntata scopriremo anche chi è il vincitore della manifestazione Per quanto riguarda l'arte del falambeio presumo che sia una delle cose più importanti per esaltare quelle che sono le dotti del Metro d'Hotel il quale ha l'opportunità con l'utilizzo della lampada non solo di far vedere quello che sa fare il Metro d'Hotel in termini di rappresentante dell'accoglienza eccetera ma anche di saper dimostrare, di poter dimostrare quello che sa fare Giorgio Zonca, un applauso Giorgio questa sera ci propone una sua ricetta inedita che ha per titolo Riso alle privizie sarde I'm jumping all over this track like a trampoline You can call me the master of seen and unseen I'm like a gladlocked zip making MC's turn green And ever since the age of seven was a hip hop theme Sending a shout to the bad sea, my man Dupreme Representing down the district all the way from Queens Would've finished up the album but I bought a Playstation Now we sit for hours playing play casades of education I release stress with my ballpoint pen Making it scroll from left to right and back again Representing for the league, seven women, two men Cause we got nine players on the TAM Not players in the sense that we sit for style It's like a bounce on funky tracks with the Liverpool style From the field to the studio, the game stays on From the present to infinity, my vocal stays strong Do it on the flow, do it on the flow Bow, how you write me down? Do it on the flow, you know how I do, so whatever Bow, how you write me down? Do it on the flow, do it on the flow Ho accettato con piacere l'invito della Mira A partecipare a questa giornata Perché ci sta fornendo spunti notevoli Per quel che concerne la preparazione dei nostri ragazzi Vivere una giornata come questa in cui i maître d'hotel si mettono alla prova È sicuramente una grande occasione per vedere una professionalità importante in azione Questi personaggi sono i cultori dell'accoglienza E quindi ci stanno dando una lezione importante da riportare ai ragazzi dell'istituto De Montis Agostino, maître d'hotel Nonché cavaliere al merito del lavoro Agostino De Montis Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non soltanto perché abbiamo forme di collaborazione continua con questa associazione così come con tante altre associazioni come fanno oggi i miei ragazzi che sono qui per collaborare con la Mira e ci presentiamo per acquisire professionalità e competenza. Il sesto concorrente in gara nonché il vincitore dell'edizione dell'anno scorso tredicesimo concorso regionale Massimo Contini. Buonasera, grazie. Presento oggi il riso del Sinis. All night long I'm a lowrider 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 Buonasera a tutti quanti. Presidente, buonasera, grazie di essere qua con noi oggi. Voglio presentare un piatto che faccia esprimere i sapori di questa nostra bellissima isola che si chiama Sardegna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.